Il comune di Scoppito ha il suo nuovo bilancio preventivo che prevede diverse novità. Innanzitutto c'è l'introduzione dell'addizionale IRPEF che qualche polemica alla scatenata, Scoppito, era l'unico comune a non avere questa tassa. Però l'aumento di popolazione e soprattutto di popolazione giovane che costituisce il punto di forza di questo territorio ha indotto l'amministrazione a disporre questa introduzione, soprattutto per non tagliare altri servizi. L'aumento demografico ha determinato una necessità di aumentare le entrate, questo è evidente perché i servizi hanno un costo e vanno comunque sostenuti. Avevamo di fronte due strade, o l'inserimento dell'addizionale IRPEF così come abbiamo fatto con un'esenzione fino a 14.000 euro che esenta circa la metà dei contribuenti, l'altra strada era il taglio dei servizi o l'aumento dei costi dei servizi, soprattutto i servizi scolastici, quindi mi riferisco alla mensa, al trasporto che invece abbiamo mantenuto gratuito, mi riferisco anche al ritocco delle aliquote del limo e della tasi perché quest'anno la normativa ci dava la possibilità di aumentarle. Abbiamo scelto una strada diversa, secondo noi più equa, più sostenibile da parte delle famiglie e crediamo insomma di aver tutelato quelle fasce di popolazione che hanno già costi elevati. Il bilancio di previsione 2019 contiene investimenti per circa 7 milioni di euro e permetterà la partenza di alcune opere ritenute fondamentali, opere pubbliche, come ad esempio il polo scolastico centralizzato a località Colli di Scoppito dove ci sarà anche la scuola dell'infanzia per un importo di oltre 3 milioni di euro, ma anche la ristrutturazione del municipio, la sistemazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Collettara, la demolizione e ricostruzione dell'edilizia cimiteriale, l'intervento di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione e gli interventi di sistemazione sulle strade. Rispetto agli anni scorsi si sono potenziati anche alcuni capitoli di spesa che permetteranno di avere un maggiore decoro del patrimonio pubblico, del verde, per la manutenzione ordinaria delle strade e degli spazi pubblici. Rientrano in questi interventi anche una serie di progetti come la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale delle strade comunali e dei bivi di Civitato Massa, Ponte San Giovanni e Collettara, ma anche la realizzazione di un parco pubblico a Bigliano, la sistemazione degli spazi esterni del nuovo asilo nido a Scoppito e la realizzazione di un progetto di parco sensoriale sulla piazza di Collettara e infine la realizzazione di un sistema di videosorveglianza sui punti di accesso al territorio comunale e su alcuni parchi pubblici. Gli investimenti più importanti sono quelli legati alla ricostruzione del doposisma, quindi sicuramente quello della scuola, del polo centralizzato che dovrebbe partire entro quest'anno, ma anche la realizzazione degli interventi sull'edilizia cimiteriale con la demolizione e la ricostruzione di un ala del cimitero, la ristrutturazione degli alloggi ERP e poi la ristrutturazione dell'edificio comunale di Scoppito che è inserita in questo bilancio e dovrebbe quest'anno iniziare l'ITA. Accanto al sindaco Marco Giusti c'era anche il vice sindaco Cesare Ciancarella di recente passato alla Lega. Anche su questo ci sono state alcune polemiche, ma i due hanno voluto rassicurare tutti. Questo non mina la maggioranza di Scoppito, anche perché, al di là dei partiti, ha detto il sindaco, si lavora tutti uniti per il territorio comunale. La nostra è un progetto amministrativo civico, è nato sette anni fa su degli obiettivi ben precisi, è nato insieme al vice sindaco e va avanti con lui e con tutti gli altri. Le posizioni politiche dei singoli sono legittime, sono assolutamente comprensibili, ma io sono convinto che è la politica che deve essere funzionale all'amministrazione e non viceversa. Questa è l'impostazione che abbiamo dato, quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista. Grazie a tutti.